ecco qui ci troviamo dentro la mia cantina con l'ausilio di luigina l'amica intima di mia moglie guarda come c'è una velocità un metodo veramente bravo luigina ecco qua queste sono le amiche del cuore di mia moglie la conserva com'è luigina è buona allora luigina qualche bottiglia te la regalo mia moglie la giornata ma non ti sordi segniamo te per me la campiale va bene ok si va bene continua il lavoro la conserva è buona buon lavoro luigina grazie grazie